Le uniche due vittorie esterne di giornata sono state quelle del Campobasso a Civitanova Marche contro la San Giustese e quella della capolista notaresqua Giulianova grazie alla nona sinfonia stagionale di San Sovini. Gli abruzzesi di Vagnoni non conoscono la parola calo e proprio ieri Alfadini hanno staccato la quota dei 40 punti e sono campioni di inverno con due giornate di anticipo. Il margine rimane di 8 punti sulla seconda, cioè sulla Recanatese che batte non senza fatica il Porto Sant'Elpidio Maidomo. 4-3 il finale per la squadra di Recanati che ritrova il Pera dei tempi migliori che segna tutti e quattro i gol di giornata e sale a quota 14 nella classifica generale dei marcatori. Secondo 4-0 consecutivo per il Matelica che si sbarazza senza troppi problemi della vastese. Bugaro, Croce, Barbetta e Massetti, marcatori della squadra di Colavitto che si prepara alla seconda interna consecutiva contro l'Olimpia agnonese. In mezzo la classifica si è accorciata notevolmente. Il Pineto esce dalla zona play-off a beneficio del Campobasso che fa il suo ingresso. Nella parte destra della classifica da rilevare la prima vittoria stagionale del Chieti affidato alle cure di Pino Di Meo. 3-2 ad una Iesina che da sabato scorso chiude la classifica del Girone insieme con il San Marino Cattolica. A proposito, quest'ultima squadra ha vinto la sua prima partita stagionale ai danni del malcapitato Avezzano che ha prelevato in settimana l'ex centrocampista di Potenza e Campobasso Diop. Crisi nera per l'Avezzano, sprofondato al quarto-ultimo posto. Buon punto del Vasto Girardi sul campo del Fiuggi. Un risultato utile a tenere a distanza di quattro punti proprio i laziali. L'impressione viva è che il campionato abbia un unico padrone in contrastato quel notaresco che ha fatto una specie di vuoto con il resto del gruppone. Dagli abruzzesi in giù c'è una lotta abbastanza equilibrata nella quale sembra che tutti possano concorrere per il secondo posto dalla recanatese, attuale vice capolista, alla vastese, settima in classifica.